Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera reta autostradale toscana e sulla FIPILI. Sulla FIPILI si segnalano lavori tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est in direzione Livorno. Sulla statale 73 Senese Aretina è entrata chiusa per lavori all'incrocio di Palazzo del Pero. Per i treni l'Intercity 35-37-8 da Salerno a Torino Porto Nuovo al momento viaggia con 82 minuti di ritardo. Fermo a Grosseto alle 14.01 salvo recupero. Infine per gli aerei il volo Ryanair da Pisa a Brindisi delle 12.45 decollerà in ritardo alle 13.10. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!